L'Associazione per la Mobilitazione Sociale si occupa di mobilitare piccoli e grandi su alcune tematiche. Quella che per adesso ci sta molto a cuore sono la sicurezza stradale e l'impegno che ognuno di noi ha nel prevenire gli incidenti, soprattutto nel dare un messaggio ai propri cari che la vita è una sola e che è preziosa. Il consiglio è che quando ci ritroviamo attorno allo stesso tavolo chiediamo ai nostri figli e ai nostri genitori se si sono comportati bene alla guida perché basta veramente poco per cambiare stili di vita e per fare prevenzione.